Forse uno scambio di persona o proprio la scelta precisa di colpire uno degli attori protagonisti del film La Paranza dei Bambini, tratto dal bestseller di Roberto Saviano. È giallo sul ferimento del diciottenne Artem Kaciuk, accoltellato sabato notte intorno alle tre mentre si trovava nella zona dei baretti di Chiaia, Napoli. Il giovane era con un amico ventunenne quando un gruppo di ragazzi si è avvicinato a loro chiedendogli se è del rione Traiano conosci questa persona per poi colpirlo prima a calce e pugni e poi durante la colluttazione con un coltello al fianco destro trasportato all'ospedale Loreto Mare per lui una prognosi di 20 giorni. Intanto le indagini del commissariato San Ferdinando non escludono alcuna pista, anche un litigio. Visionate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza al baglio della polizia scientifica e sentiti alcuni testimoni. Il questore Antonio De Jesu ha confermato come non si stia trascurando nulla neppure quella domanda sul rione Traiano che è lo stesso dal quale provengono alcuni dei protagonisti del film. L'attore 18enne, nato in Ucraina ma cresciuto a Napoli, residente ad Afragola, dall'ospedale ha detto di non sapere il perché di questa aggressione. Non mi mischio con queste persone, non mi abbasso al loro livello, ha precisato. Forse mi hanno scambiato per un altro. Amo Napoli ma c'è troppa ignoranza tra i ragazzi. Mi hanno aggredito in 15, vorrei dire loro che non è questo che ti fa forte. L'unica preoccupazione quando ho visto tutto quel sangue è stata per mia madre.